Ecco i Johnny in una manifestazione che non è da tutti, forse a dire la verità non è nemmeno da lui. Allora spieghiamo un attimo, qui abbiamo del guanciale verace, scusa metti dritto quella base, il guanciale verace che ho rigorosamente allevato nei scorsi mesi nel mio piccolo allevamento nel nord-est della nostra penisola. Lo andiamo a tagliare finemente, ok? Avvicinate, avvicinate, non avrete paura. Intanto vediamo anche un po' la consistenza, vedete com'è molto, sentite che rumore fa? E poi andiamo un attimo a fare un'altra fetta, intanto qui già abbiamo messo a rosolare, no, a rosolare no, perché ancora è spento, però nel senso presto lo faremo. Io spero che tu non pubblichi sta stronzata. Mamma, diamoci una regolata qua. Vabbè, io direi che per la nostra gricia può bastare. Sì, avete capito bene, gricia. Oggi farò una gricia con questi ingredienti essenziali, guanciale, pepe, pecorino romano, e basta. Appunto questi tre ingredienti essenziali che prellono questo piatto povero, perché si tratta di un piatto povero così gustoso come tutti abbiamo imparato a riconoscere la gricia, no? E poi andiamo a riconoscere la gricia.